Il Vescovo Nerbini Il Vescovo Nerbini Il Vescovo Nerbini La chiesa di San Domenico era piena di fedeli, oltre la capienza, con tante persone che hanno dovuto seguire la celebrazione dal chiostro. La comunità ecclesiale di Prato, composta da parrocchie, gruppi e movimenti, ha risposto all'invito del Vescovo Giovanni Nerbini e si è riunita in preghiera in questo momento così difficile e doloroso per la chiesa pratese. Ieri sera avrebbe dovuto tenersi il primo incontro del convegno diocesano, l'appuntamento che segna la ripartenza delle attività pastorali. Invece, dopo i noti e tristi fatti che vedono coinvolto Don Francesco Spagnesi, Monsignor Nerbini ha pensato di rinviare il convegno e di tenere una preghiera di riparazione in segno di consolazione, perdono, verità e giustizia. La celebrazione si è svolta in silenzio, con i presenti inginocchiati di fronte al Santissimo Sacramento, eloquente la scelta delle letture affidate insieme all'animazione della serata ai giovani della diocesi. Egli ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in ogni genere di afflizione, con la consolazione con cui noi stessi siamo consolati da Dio, si legge nella lettera di San Paolo proclamata nel corso della veglia. Poi le invocazioni con la richiesta di rafforzare i passi di chi stenta a camminare sulla via dell'onestà e della giustizia, e di consolare e sorreggere i fratelli e le sorelle feriti. In chiesa erano presenti insieme ai fedeli, i sacerdoti diocesani e i religiosi, tra questi anche le monache benedettine di clausura, che solitamente non escono dal monastero di San Clemente per partecipare agli incontri comunitari. Dopo la reposizione del Santissimo Sacramento, la veglia si è sciolta nel silenzio, così come era iniziata. Il convegno pastorale di Ocesano si terrà martedì 5 e mercoledì 6 ottobre, sempre in San Domenico. Adesso la sanità. Pochi giorni fa TV Prato aveva documentato le lunghe attese con cui hanno a che fare i cittadini che prenotano degli esami o delle visite, chiamando il numero unico del CUP. Ebbene, la ASL ha aumentato gli operatori dei call center. E ai nostri microfoni il dottor Pasquini, direttore del CUP, dà alcuni consigli agli utenti sul sistema multicanale di prenotazione dell'ASL Toscana Centro. Sentite. Lunghi attese al call center del CUP per prenotare una visita specialistica o un esame diagnostico, come TV Prato ha documentato, l'ASL corre ai ripari. Nell'ultima settimana il personale che risponde alle telefonate dei cittadini è stato incrementato di 6 unità, per un totale di 40 operatori, che adesso rispondono contemporaneamente al numero unico dell'ASL Toscana Centro 055 54 54 54. Tradizionalmente il mese di settembre, dalle analisi statistiche, è il mese per eccellenza della ripartenza delle prenotazioni. Quest'anno, il mese di settembre, è coinciso anche con la ripartenza post-covid. È chiaro che noi stiamo anche potenziando i canali del call center, confermo alcune difficoltà che noi vogliamo superare anche formando ulteriormente le persone. Sempre negli ultimi sette giorni sono state prese tra Prato, Pistoia ed Empoli 36 mila prenotazioni, di cui 14 mila nella nostra provincia. In media ogni settimana Centro Pratesi prenotano tramite l'app Toscana Salute, che come il sito prenota.sanità.toscana accetta però solo le ricette dematerializzate bianche. Gli altri canali di prenotazione alternativi al CUP telefonico sono poi gli sportelli, gli istituti convenzionati a discrezione, anche gli studi dei medici di famiglia e le farmacie. Sul sito dell'azienda abbiamo pubblicato per ogni farmacia l'orario in cui la farmacia svolge questo servizio. In particolare su Prato abbiamo una buona realtà delle farmacie pubbliche e private. Abbiamo 70 farmacie che nell'ultima settimana hanno effettuato oltre 2000 prenotazioni. Tutte le 70 farmacie sono attive con alcune prenotazioni, ma non vogliamo demonizzare il call center, ma lo invitiamo a un uso razionale. Per chi usa il CUP telefonico l'ASL consiglia alcune fasce orarie per evitare attese. Quella mattutina dalle 7.45 alle 9, quella pomeridiana dalle 12 alle 16 e il sabato mattina dalle 7.45 alle 12.30. 42 nuovi positive e purtroppo anche un decesso sono i dati relativi alla nostra provincia sul fronte del contagio, così come riporta il bollettino quotidiano della regione. La vittima, la 629esima Prato dall'inizio dell'emergenza, è una donna di 60 anni deceduta all'ospedale Santo Stefano. In Toscana complessivamente si registrano oggi 325 nuovi casi e 7 decessi, compreso quello notificato nella nostra provincia. Il numero risulta in aumento rispetto a quello di ieri, quando i nuovi positivi erano 215, ma a fronte di un numero superiore di test eseguiti, oggi oltre 17.000. Il tasso di positività si attesta all'1,9%. Buone notizie per quanto riguarda i ricoveri, 17 in meno rispetto a ieri, pazienti nell'area Covid dell'Asla Toscana Centro e 3 in meno quelli in terapia intensiva, che oggi in tutto sono 50. Soltanto per la giornata di domani cambiano i numeri di telefono per mettersi in contatto con la Croce d'Oro di Prato. Il tradizionale 057426100 sarà muto dalle 8 di domattina, giovedì 23 settembre, fino alla serata per lavori di rinnovamento tecnologico, che porteranno ad un nuovo centralino per l'Associazione di Via Niccoli. Per richiedere informazioni, quindi, si dovrà chiamare il 380-2035-318. Per i servizi in calendario per domani e venerdì, contattare il 331-6065-691 e per le onoranze funebre il 335-6320-439. A partire da venerdì mattina, tornerà in funzione il classico 057426100. Passiamo adesso alla cronaca, servizio straordinario di controllo del territorio della polizia in centro storico. Impiegati nelle verifiche, 9 equipaggi e 20 uomini. L'obiettivo è quello di prevenire episodi di microcriminalità. Stamattina abbiamo organizzato un dispositivo per un servizio straordinario di controllo del territorio in zona centro, con un impiego di 9 equipaggi della Polizia di Stato, con un totale di 20 uomini schierati sul territorio, oltre all'ordinario dispositivo di controllo del territorio. Piazza Mercatale, Piazza Duomo, Piazza Lippi, Il Serraglio, Piazza Ciardi sono alcune delle zone dove stamani è stata massiccia la presenza delle pattuglie della Polizia di Stato. Al servizio straordinario di controllo del territorio hanno partecipato vari reparti, oltre alle volanti anche la Polizia Stradale e gli equipaggi del reparto Prevenzione e Crimine di Firenze. Nel complesso sono state identificate 47 persone e controllati 20 veicoli su strada. Gli agenti hanno effettuato verifiche anche all'interno di 5 attività commerciali. Un 26enne marocchino non aveva con sé i documenti ed è stato portato prima al posto di polizia di Piazza Duomo e poi in questura dove è stato identificato. Il giovane, irregolare in Italia, è stato denunciato in stato di libertà per ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale. L'attività di stamani è stata organizzata dalla Questura nell'ottica della prevenzione ad episodi di microcriminalità e degrado. Le stesse funzioni del presidio fisso di polizia di Piazza Duomo, aperto dalle 7.30 di mattina alle 8 di sera. Per dare una risposta quindi ai fenomeni di quella che noi definiamo microcriminalità e fenomeni di degrado urbano, contro i quali il presidio di polizia è sicuramente un valore aggiunto, un presidio di legalità a disposizione della cittadinanza tutti i giorni e che in certe occasioni è utile dal punto di vista logistico e anche dal punto di vista della vicinanza ai problemi della comunità. Petizione SITIN questa mattina da parte dell'osservatorio ambientale di Prato, lo strumento che riunisce comitati, associazioni e movimenti cittadini. La richiesta avanzata al Comune è quella di contrastare l'inquinamento e il consumo di suolo. L'osservatorio ambientale di Prato chiede risposte al Comune. Lo fa sulla base della dichiarazione di emergenza climatica che la stessa amministrazione comunale ha firmato nel 2019 chiedendo impegni precisi alla Giunta Biffoni per ridurre l'inquinamento, il consumo di suolo e per favorire politiche green. L'osservatorio in cui si riuniscono comitati, associazioni e movimenti ambientalisti ha presentato in Comune una petizione con oltre 300 firme che è stata discussa questa mattina e in contemporanea ha tenuto pure un SITIN in piazza del Comune. I problemi più importanti sono un utilizzo del suolo assolutamente devastante perché si continua a utilizzare il suolo quando invece si potrebbe utilizzare le vecchie industrie. Comunque capire che esiste un limite e questo limite non vuole essere visto. Un altro problema importante è l'inquinamento dell'aria e anche del suolo che come avviene per le emissioni sia dell'industria sia di quello che solo noi abbiamo un inceneritore per fanghi che non esiste da nessuna parte. Un altro problema importante sono gli alberi che si è visto che hanno tagliato una grande quantità di alberi enormi per poi ripiantare degli alberelli più delle volte che seccano. Le critiche sono state mosse anche sul fronte del servizio idrico sul quale l'osservatorio ambientale torna a ribadire la necessità di ripubblicizzarlo abbandonando ogni strada di quotazione in borsa o di multi-utiliti dei servizi pubblici. La costituzione di una nuova società per azioni, la strada che sta prendendo addirittura verso la multi-utiliti per la gestione di tanti servizi, è una scelta a nostro avviso del tutto deleteria. Di ben altro avviso invece la posizione del Comune. Il Comune questa mattina ha risposto mettendo in evidenza tutto quello che è stato fatto. In realtà la petizione parte dalla dichiarazione di emergenza climatica che il Consiglio Monale ha fatto all'inizio della legislatura e che di fatto ha portato a tutta una serie enorme di attività che sono in corso programmi come Prato Forest City, Prato Urban Jungle, il PAESC programmi di revisione del piano urbano della mobilità sostenibile, Prato Circular City. L'economia civile e il modo originale di fare impresa tra etica e profitto sono stati al centro dell'iniziativa promossa ieri pomeriggio in San Nicolò dall'Ordine dei commercialisti in occasione del patrono San Matteo. Scopriamone di più. È possibile e conveniente gestire un'impresa partendo dalle persone anche e soprattutto da quelle che sono più in difficoltà. È la lezione dell'imprenditore Marco Bartoletti che ieri pomeriggio nel corso dell'iniziativa sull'economia civile promossa dall'Ordine dei commercialisti in occasione della festa di San Matteo, loro patrono, ha raccontato la storia della sua azienda dove non si esclude nessuno. La festa è stata infatti un'occasione per riflettere nel momento del cambiamento sull'economia civile e sul modo originale di fare impresa tra etica e profitto. San Matteo tradizionalmente per noi è una giornata di riflessione, momento in cui ci fermiamo, abbandoniamo un po' i temi tecnici per riflettere su quelli più propriamente etici. È un momento in cui usciamo dal periodo di fuoco delle scadenze ed è un periodo di attese riforme, quindi per i commercialisti un impegno di prima linea a fianco delle imprese e dei cittadini e per dare la migliore attuazione possibile a tutta questa serie di disposizioni che hanno un unico obiettivo, il rilancio effettivo del Paese. Ad aprire l'incontro Beatrice Cerrino, docente della Scuola di Economia Civile. Fiducia, reciprocità, gratuità, generatività, fraternità, queste le parole d'ordine di Cerrino per il nuovo modello economico che trova nella Fratelli Tutti di Papa Francesco numerosi punti di contatto. È proprio l'emergenza che ci ha fatto vedere quanto di reciprocità, quanto di gratuità c'è stato nei rapporti e anche il discorso della fiducia. Siamo in un momento in cui non ci fidiamo dell'altro, perché l'altro è homo homini virus, però dobbiamo assolutamente trovare le categorie per ritornare a vedere l'altro come homo homini amicus. Dalla teoria alla pratica con il racconto appunto di Bartoletti, che a Calenzano realizza accessori in metallo per grandi brand mondiali della moda. Nel 2020 siamo partiti in due, adesso siamo a 240. Chi è in difficoltà ha un valore aggiunto, ha detto l'imprenditore. Si può fare impresa mirando al risultato ovviamente, ma cercando di non lasciare indietro nessuno. Questo coinvolgere e dare la possibilità alle persone di esprimersi nell'ambiente di lavoro nonostante le loro difficoltà o i loro problemi di salute, è un valore per l'impresa stessa che si riesce a misurare con il tempo naturalmente, ma che si riesce a misurare in maniera molto solida. Quindi si riesce a creare anche un ambiente che spesso diventa una sorta di comunità. Una nuova carica per Dalila Mazzi, presidente della Camera di Commercio di Pistoia e Prato, eletta a febbraio 2021, vicepresidente di Union Camere Toscana. Mazzi entra nel Comitato Esecutivo di Union Camere Nazionale in rappresentanza del sistema camerale toscano. Questa carica ci permetterà di dar voce alle stanze delle Camere di tutta la Toscana e di conseguenze alle imprese dei territori di Pistoia e Prato, ha commentato Dalila Mazzi. Il mercato immobiliare toscano ha tenuto nel 2020. Ecco i dati presentati in Regione da FIAP, la Federazione degli Agenti Immobiliari Professionali. Nel 2020 le compravendite immobiliari sono aumentate in tutta la Toscana e i prezzi sono rimasti stabili, anche se sono cambiate le esigenze abitative degli italiani e dei toscani a causa della pandemia di Covid-19 e dei relativi lockdown. C'è stata più richiesta di case con giardini o terrazzi, ma anche stanze utilizzabili per fare smart working oppure per far studiare i figli in didattica a distanza. Questi dati sono stati presentati in Regione Toscana da FIAP, la Federazione degli Agenti Immobiliari Professionali. È un studio che rivela come da un punto di vista dell'andamento delle compravendite il mercato immobiliare tiene vivo e conseguentemente nonostante il lockdown questo lo vediamo come un indice che in qualche modo asseconda quello che già l'IRPED ci dice sul piano dello sviluppo che in Toscana si presenta allineato e forse più marcato che a livello nazionale con un PIL previsto per il 6%. Nonostante i lockdown dovuti alla pandemia, FIAP ha ricordato come per comprare o vendere una casa sia ancora fondamentale rivolgersi a un agente immobiliare e non si possono fare tutte le operazioni di vendita o di acquisto esclusivamente online. Ma io credo che il lockdown ha certificato che nessuno compra o vende casa online perché Amazon ha quadruplicato i fatturati e tutto il mondo online invece tutte le varie start-up di questo settore hanno avuto grandi criticità. Le persone in quei due mesi non hanno potuto e non hanno voluto comprare o vendere casa e hanno atteso che le nostre agenzie fossero riaperte. L'osservatorio regionale FIAP nasce dal lavoro di monitoraggio svolto dagli oltre 800 associati presenti sul territorio toscano. Sarà Jacopo Veneziani ad aprire domani sera. Sarà tutta colpa dell'arte il nuovo ciclo di conversazioni con scrittori e saggisti promosso dal Museo di Palazzo Pretorio e da TV Prato. La prima di quattro storie d'autore al museo, come recita il sottotitolo dell'iniziativa, è quella di questo ricercatore piacentino di storia dell'arte alla Sorbona di Parigi seguito da più di 40.000 followers su Twitter per i suoi divulgo, un originalissimo taglio di racconto della storia dell'arte sui social. Veneziani sarà intervistato dal direttore di TV Prato Gianni Rossi. Si potrà seguire l'evento anche in diretta streaming domani a partire dalle 21.15 sulla pagina Facebook di TV Prato. E ci spassiamo adesso a Montemurlo. Dopo un anno di stop causa Covid, è tornata la manifestazione enogastronomica a spasso con l'oste e degustazioni, musica e negozi aperti fino a mezzanotte. Diciamo che è un appuntamento ormai che non si può mancare, tutti gli anni bisogna fare visita perché è un momento dove ci si rivede dopo anche anni duri e quindi una bevuta, una chiacchiera e tutto ci fa tornare alla normalità. È la terza volta che ci veniamo, che siamo da quattro anni qui, bella. Ci sono anche parecchi stand, ci siamo divertiti, abbiamo mangiato bene. Dopo un anno di stop e un rinvio per maltempo, è tornata la manifestazione enogastronomica per le vie di Ostia, spasso con l'oste. Lungo un percorso di oltre un chilometro tra via Ostia e via Treviso, una serata di negozi aperti e di buon cibo, con sei punti musica e vari punti degustazione. La formula dunque non è cambiata rispetto alle passate 15 edizioni. Certo, quest'anno c'è stata qualche regola in più dettata dall'emergenza Covid, a partire dalla mascherina obbligatoria durante il passeggio tra gli stand. Abbiamo ricominciato, per ora fortunatamente tutti rispettano le regole, ovviamente facciamo le consumazioni a sedere, l'obbligatorio l'utilizzo della mascherina e tanti atti accoggiamenti per prevenire l'anticovid. Quindi comunque una manifestazione in sicurezza. Era giusto anche ritrovare un momento di socialità, un momento di incontro con i cittadini, dare l'occasione ai commercianti della frazione di poter stare aperti e di poter quindi vivere una manifestazione come questa. Ovviamente lo facciamo con le prudenze necessarie, con le mascherine e col Green Pass, però questo è sicuramente un modo per ripartire anche dal punto di vista della promozione del territorio e della nostra socialità. Sacchetti aperti, lattine, imballaggi e persino una siringa, un materasso. È la spazzatura abbandonata sui marciapiedi nell'aiole di via Simintendi e di via Giuliano da Sangallo. La segnalazione è arrivata da un cittadino, nostro lettore, che ha inviato alla nostra emittente le foto che state vedendo tramite la funzione Invia foto e video presente sul nuovo sito tvprato.it Queste sono solo le foto più significative di quello che vedo durante la passeggiata mattutina che faccio per portare i miei figli a scuola in centro, ci ha scritto il cittadino. Passiamo adesso allo sport, al calcio. Il Prato vince sul campo della San Giovannese per 2 a 0 e accede al secondo turno della Coppa Italia. Ce ne parla Massimiliano Masi. Avanti in Coppa Italia. Il Prato espugna il Virgilio Fedini di San Giovanni Valdarno superando per 2 a 0 la San Giovannese. In virtù di questo risultato il Prato accede al secondo turno della competizione. Il tecnico Luigi Pagliuca rivoluziona tutta la formazione rispetto alla partita di campionato di Rimini. Nell'undici iniziale solo uno dei titolari dorsi rispetto alla partita del Romeo Neri. Il Prato si presenta con il consueto 4-3-1-2, compagnini in porta, difesa con Grillo e Romiti esterni, Shannamè e Cestaro coppia centrale. A centrocampo Ferretti, Dorsi e Tavanti, con Tommaselli schierato a ridosso delle due punte, Aleksic e il debuttante Renzi. Nel primo tempo comincia bene la San Giovannese che con l'ex Grassi, Nabellini, offre un assist al bacio per Polo che non arriva all'appuntamento con la rete. Il Prato con il passare dei minuti alza il proprio baricentro e riesce a passare in vantaggio al 23esmo con la rete di Aleksic che sfrutta al meglio un errato disimpegno di Rossetti e con un siluro di destro riesce a segnare. Nella ripresa la San Giovannese accenna un forcing per rientrare in partita. Bellini riscalda i guantoni a Pagnini mentre a tempo scaduto la formazione di Jacobelli ha la ghiotta occasione per pareggiare. Fallo in area di rigore del Prato per l'arbitro ci sono gli estremi per il calcio di rigore dal dischetto Vassallo sbaglia facendosi ipnotizzare dal portiere Pagnini. Durante il tempo di recupero il Prato riesce a trovare la rete del raddoppio in contropiede con Tommaselli. Il Prato esulta e vince 2 a 0 e accede al secondo turno della Coppa Italia. Ed è il momento dell'agenda vediamo insieme gli appuntamenti in programma domani sera a Prato e dintorni. Domani giovedì 23 settembre alle 21.15 al Museo di Palazzo Pretorio primo di 4 appuntamenti della rassegna Tutta colpa dell'arte storie d'autore al museo. Intervista del direttore di TV Prato Gianni Rossi a Jacopo Veneziani ricercatore alla Sorbona di Parigi divenuto famoso per avere dato un originale taglio di racconto della storia dell'arte sui social ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Alle 21.30 al Museo del Tessuto la trama dell'Oriente Fantastico spettacolo lirico con due voci narranti dell'associazione Perché Verdi Viva e dalle ore 19 al Teatro Fabrichino e Cinema Excelsior e allo Spazio K spettacoli di Oscar de Suma Maniaci d'Amore e Cronoteatro e Francesca Foscarini nell'ambito del contemporanea festival del Teatro Metastasio. E con l'agenda è tutto vi lasciamo adesso alle previsioni del tempo come sempre a cura del Consorzio Lamma l'informazione di TV Prato torna domani alle 13.45 con il Tg del giorno e tutti gli aggiornamenti poi li potrete trovare sul nuovo sito internet tvprato.it Grazie per l'attenzione e arrivederci. stop! Purtroppo questo non succede solo nei film ma se vuoi stare tranquillo un modo c'è affidati a veri professionisti Prato all'armi una sicurezza da Oscar Abbiamo scelto gli uomini giusti perché vogliamo che i nostri clienti si sentano protetti ma anche sereni Prato Pollo professionisti della sicurezza non guardi Noi della gelateria a zucchero siamo ossessionati dalla qualità e ricerchiamo le migliori materie prime ovunque queste si trovino vi aspettiamo in via Carlo Marz 74 e in via Bologna 159 a Prato Un saluto dalla sala meteo del Consorzio Lamma iniziamo con il vedere la situazione a grande scala prevista per domani vediamo come su buona parte dell'Europa insista un'area di alta pressione si tratta dell'anticiclone delle Azzorri che si estende appunto anche verso la nostra penisola il flusso perturbato scorre più al nord nord-est una depressione sulla Spagna tende a spostarsi ancora più verso ovest andiamo a vedere il dettaglio per la previsione per domani vediamo come in mattinata il cielo sarà prevalentemente poco nuvoloso per nubi alte e sottili venti deboli temperature minime indieve diminuzione nel pomeriggio poco cambia ancora poco nuvoloso per velature che localmente transiteranno con venti deboli variabili mari poco mosse temperature che non non cambieranno rispetto alla giornata di oggi massime tra 25 e 26 gradi in pianura passiamo alla successiva giornata di venerdì vediamo come in mattinata il cielo sarà poco nuvoloso qualche addensamento sulle zone meridionali qualche foschia e banco di nebbia nelle pianure interne venti deboli da sud nel pomeriggio poco cambia ancora prevalenza di sole qualche modesto addensamento sulle zone meridionali venti in rinforzo da sud specialmente sulla costa meridionale i mari tra poco mossi diventano mossi temperature senza variazione di rilevo oppure in lieve aumento nei valori massimi bene con questo direi che è tutto vi auguro ancora una buona serata noi della gelateria zucchero siamo ossessionati dalla qualità e ricerchiamo le migliori materie prime ovunque queste si trovino il nostro è un gelato naturale di fresca matricazione senza additivi e da sempre senza glutine come i nostri dolci e il nostro yogurt vi aspettiamo in via Carlo Marz 74 e in via Bologna 159 a Fraso a Fraso Grazie a tutti